e la domanda di stasera sarà il posto più strano dove avete fatto l'amore in un sottoscala in un cartone io il posto più strano che ho fatto è stato la caura aver limonato per forse ho limonato come volevo fare il pranzo del suocero il pranzo del suocero è il peso da dinotauri però possiamo anche buttare sempre nel corno che possiamo buttare anche via 3,2,1 vai oh yeah tu jasmine dove hai fatto? non per la prima volta se lo hai fatto la prima volta e puoi anche essere 3,2,1 vai provergine io l'ho fatto invece della campagna di mio padre sotto una guercia ho ci ho dato tanto ci ho dato tanto ci ho dato tanto ci ha dato eh ho buttato il salame sotto l'alte avanti 3,2,1 vai con un ascensore che si è bloccato è sotto in una cantina e nel bagno in cinema a cinema buono che l'ho risuardo allora buonasera a tutti il luogo più carino dove ho trombato è stato il Valle delle donne oddiooo io non ce l'ho giù con noi io scopo facile sul letto nooo vai via vai via vai via vai yes io non bagno nella discoteca io in un aeroporto in in casi scusate inoltre dimenticavo che il luogo di assunto con la trombata è stato bagno dell'ospedale bene anni le san